Siamo in uno dei primi parchi eolici costruiti qui in Puglia, del Salento. La Puglia ormai da tempo è orientata verso queste nuove forme di energie alternative. Siamo allora in compagnia del Capogruppo, la Regione, il PD Antonio Maniglio, una delle personalità politiche che guarda con molto ottimismo alle energie alternative. La vostra campagna elettorale si basa appunto sul sole e sul vento. Queste due parole per voi, che significato hanno e per lei soprattutto? Noi abbiamo bisogno di energia, però dobbiamo evitare di fare del male alle persone e all'ambiente. Quindi l'energia da fonti fossili o quelle nucleari, è chiaro che sono delle energie altamente rischiose di cui in alcuni casi dovremo continuare a farne uso, penso alla centrale a carbone di Cerano. Però noi dobbiamo costruire le condizioni, anzitutto per dire no al nucleare, come abbiamo già detto. Per ridurre le emissioni a Cerano e quindi contrattare con Enel la riduzione di ogni sostanza inquinante e poi dobbiamo sviluppare le energie alternative. Noi siamo la prima Regione in Italia, è una scelta che il Presidente Vendola e il centro-sinistra hanno fatto. Io penso che naturalmente l'energia in più che produciamo con le fonti rinnovabili deve essere sostitutiva di quella che produciamo con le fonti fossili, con il carbone, con il petrolio e così via. Quindi questo mi pare l'input importante che dobbiamo comunicare. In termini di convenienza economica, qual è la differenza tra l'eolico e il solare rispetto al nucleare? Io cito un dato. Siccome uno dei problemi connessi alla gestione di un impianto nucleare è lo smaltimento delle scorie, ricordo tra l'altro che le scorie delle centrali di Montalto di Castro e Trino Vercellese ancora non sono state smaltite, in Francia, che è una nazione nuclearista, hanno costruito sottoterra, 500 metri sottoterra, hanno costruito una specie di catacombe che è costata qualcosa come 60 miliardi di euro. Ora 60 miliardi di euro è pari al debito dell'Italia accumulato in tanti anni. Quindi è un'operazione impraticabile per chi volesse tentare, ma solo tentare, di coniugare nucleare con sicurezza. Che cosa ha fatto in questi cinque anni il governo della regione Puglia? Che cosa farà nel caso di vincita? Intanto io sono orgoglioso di aver firmato, presentato e fatto votare dall'intero Consiglio regionale la legge che dice no al nucleare. L'ho fatto rispettando la Costituzione che assegna la materia dell'energia allo Stato nazionale e alle regioni. Quindi nella nostra legge sta scritto che se la Puglia non è d'accordo sulle installazioni di impianti di tipo nucleare, il nostro territorio è precluso a questi insediamenti. Ecco, io penso sia una scelta che guarda al futuro, che soprattutto vuole impedire colpi di mano del governo nazionale. Berlusconi ha deciso di installare 13 centrali nucleari in Italia. Dobbiamo far sapere a Berlusconi e agli altri che non solo la Puglia non è disponibile ad alcunché, ma io aggiungo neanche l'Italia, perché il nucleare di terza generazione, quello di cui si parla, è assolutamente pericoloso e molto costoso. Per il resto bisogna incentivare le energie rinnovabili con un'attenzione a non impoverire e a non modificare il nostro paesaggio rurale. Questo penso che sia interesse di tutti, evitare che gli impianti aggrediscano il territorio. E nello stesso tempo dovremmo trovare il modo per favorire l'imprenditoria locale, perché la cosa anche poco piacevole è che gran parte di questi impianti e quindi dei relativi prodotti che ne compongono l'assetto finale e purtroppo non vengono da aziende locali, pugliesi, ma addirittura da multinazionali. Quindi c'è anche spazio per una imprenditoria che vuole cimentarsi anche sul terreno delle energie alternative. La posizione vi accusa un po' di essere una banda di poeti, ma secondo lei, o meglio, dal suo punto di vista, ascoltare il suono del vento, che suggestione le dà? Il vento è chiaro che è uno degli elementi fondanti della natura, come l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco. Quindi è del tutto evidente quando non è fastidioso, particolarmente fastidioso, ma quando è in aperta campagna, magari con una bella giornata di sole, è del tutto evidente che si tratta delle condizioni ideali per stare in compagnia o stare in pace con se stessi. Quindi fa parte, ripeto, di quelle risorse della natura che noi dobbiamo naturalmente apprezzare perché rivengono da quello che è accaduto prima. Nella storia il vento è stato sempre sinoimo di cambiamento, pensando appunto alle prime civiltà fenice che hanno sfruttato questa forza per poter costruire le prime barche a vela e dunque muoversi e creare i primi traffici marittimi, ma anche i primi mulini al vento che hanno portato all'incremento della produzione alimentare. In Puglia il vento può essere appunto il monito per guardare al futuro, ma restando attento al passato. Il vento ha spazzato via, si dice, tante cose brutte. Ecco, io mi auguro che spazzi via una certa cultura politica che è tutta traffichina, tutta fondata sul piccolo compromesso. Noi qui stiamo parlando del futuro della Puglia e se questo futuro sarà meno inquinato, meno avvelenato, io guardo sempre con davvero amarezza le immagini che arrivano da Taranto, e invece sarà un futuro diverso nel senso che utilizzeremo al meglio le risorse naturali che abbiamo. Beh, il vento sicuramente è una di quelle risorse che noi possiamo utilizzare e tra l'altro con un impatto ambientale assolutamente nulla. Io, anche su questo, è chiaro che ci sono anche posizioni più estremistiche, però è del tutto evidente che noi non possiamo volere tutto il contrario di tutto. pensare di avere una società che per il suo modello richiede grande disponibilità di energia e pensare, poiché quell'energia non si capisce da dove deve uscire fuori. Quindi, se non vogliamo il nucleare, e noi non lo vogliamo, se vogliamo ridurre il carbone a Cerano e dobbiamo ridurlo, è evidente che dobbiamo lavorare per quelle energie alternative che appunto sull'eolico, sul vento e sul fotovoltaico trovano un loro fondamento. Per cui, energia alternative per voi significa crescita e non decrescita? Ma assolutamente sì. La cosa più banale è che già alcune aziende che sono impegnate nella produzione appunto degli impianti eolici o fotovoltaici già hanno creato un'occupazione nuova, inedita, rispetto alle loro attività principali. Inoltre, è assolutamente evidente che è un settore ancora in via di sviluppo. Noi abbiamo fatto una legge che consentirà l'installazione di piccoli impianti di energia alternativa di tipo domestico e anche questo è un buon risultato che alimenterà anche quel piccolo artigiano, quella piccola impresa che può produrre piccoli impianti fotovoltaici soprattutto. Ma aggiungo che, ancora una volta, finché anche quando arrivano le multinazionali per appoggiarsi per tutta una serie di lavori ricorrono alla piccola impresa locale quindi a conferma che è un settore che crea movimento e che può essere uno degli elementi importanti per lo sviluppo non l'unico, ma insomma uno importante.